covid calano tamponi e nuovi positivi sotto osservazione il focolaio di san benedetto fine settimana di furti e truffe in città nel mirino soprattutto gli anziani primo weekend di saldi estivi la parola ai commercianti al via la sesta edizione del music notes festival tra montecicardo e il parco miralfiore una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo degli aggiornamenti coronavirus sul territorio regionale perché dopo diversi giorni di numeri in crescita soprattutto nella provincia di ascoli piceno nelle ultime 24 ore sono tornati a calare i nuovi contagi complice anche il basso numero di tamponi processati rispetto al weekend proprio sul focolaio che ha avuto origine a san benedetto nelle scorse giornate si è espresso questa mattina anche il governatore della regione francesco acquaroli tornano a calare i nuovi casi di covid 19 in regione e in provincia dopo le ultime giornate in cui la risalita dei contagi nelle marche aveva fatto registrare 73 nuovi positivi complessivi nel fine settimana oggi il servizio sanità della regione ha notificato soltanto quattro nuovi casi di coronavirus su tutto il territorio regionale e di questi uno è appartenente alla provincia di pesaro urbino da sottolineare però come ogni lunedì il minor numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore che dai poco meno dei 4.000 analizzati nel weekend sono passati ad essere 755 nessun decesso è stato invece notificato nell'ultima giornata la provincia di pesaro urbino conta 10 comuni con meno di 5 positivi ciascuno mentre il territorio pesarese conta 7 persone attualmente positive e 83 in quarantena 9 invece gli attuali positivi a fano 5 ad urbino e 6 accogli al metauro gli occhi però rimangono tutti puntati sul focolaio che ha avuto origine a san benedetto del tronto e che ha fatto correre i contagi nella provincia di ascoli piceno arrivando a sfiorare quasi 50 nuovi casi soltanto nell'ultimo weekend situazione sulla quale si è espresso questa mattina anche il governatore della regione francesco acquaroli il quale ha invitato alla prudenza e al rispetto delle regole per far sì che non si verifichino situazioni analoghe e il conseguente rafforzamento delle restrizioni quello che vorrei far notare è che è l'appello per cui diciamo sempre attenzione anche al di là della questione diciamo strettamente sanitaria per cui bisogna sempre fare attenzione io ipotizzavo se questo focolaio non si limitasse solo ad un'azione a una città a una singola fattispecie ma se incidentalmente dovessero sorgere quattro focolaio come questo con uno per provincia 5 uno per provincia e noi torneremo purtroppo in zona cialla per questo che dobbiamo fare attenzione perché basta una svista o due sviste o tre sviste che coincidono nello stesso arco temporale e il danno economico e alle libertà di tantissimi marchigiani di tutti i marchigiani verrebbe compromessa quindi ecco per questo bisogna fare attenzione in primo piano parliamo anche di cronaca perché nel fine settimana appena passato sono state diverse le truffe e i furti messi a segno soprattutto ai danni di persone anziane vediamo assicurazione bancomat o falsa conoscenza sono diverse le tecniche gli approcci con cui malviventi e malintenzionati anche in quest'ultimo fine settimana hanno messo a segno truffe e furti su cui sono ora al lavoro i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili e alla ricostruzione delle dinamiche degli eventi i colpi eseguiti in rapida successione nel weekend hanno avuto origine nella mattinata di sabato quando un ottantenne intenta rientrare presso la propria abitazione è stata raggiunta da un uomo di mezza età che ha messo in atto la classica truffa dell'assicurazione comunicando all'anziana di dover ancora ricevere dei soldi da parte di sua figlia per il pagamento della polizza per rendere tutto più credibile agli occhi della donna l'uomo ha poi inscenato una finta telefonata con la figlia della vittima ma la voce dall'altra parte della cornetta apparteneva probabilmente ad una complice del truffatore l'ottantenne ha quindi consegnato all'uomo la somma richiesta da quest'ultimo per poi rendersi conto poco più tardi con l'arrivo a casa della figlia di essere stata vittima di un raggiro l'episodio è stato prontamente segnalato i carabinieri che si sono messi al lavoro per risalire al responsabile dell'accaduto i militari sono impegnati inoltre a rintracciare l'autore di un furto avvenuto nel quartiere della tombaccia vittima questa volta una settantenne che stava prelevando del denaro allo sportello bancario bnl e che al termine dell'operazione si è vista spilare di mano il banco ma da un uomo indicativamente sempre sulla mezza età che dopo aver derubato la donna si è allontanato dal posto a piedi il rapido tentativo di bloccare il conto da parte della settantenne non ha comunque impedito all'aggressore di sottrarle del denaro in totale più di 1500 euro prelevando da diversi circuiti della città per risalire all'identità del malfattore i carabinieri si avvarranno anche delle videocamere di sorveglianza poste all'esterno della filiale in cui è avvenuto il colpo altro tentativo di furto questa volta fortunatamente sventato è stato registrato in zona mare dove un uomo è stato calorosamente avvicinato da una donna per un saluto il sessantenne però ha subito capito che ciò che stava per accadere poteva essere il classico metodo per sottrarre orologi dai polsi dignari malcapitati e perciò è riuscito a sfuggire all'inganno poco più tardi le forze dell'ordine sono state allertate della sventata truppa in viale trieste i carabinieri raccomandano quindi massima attenzione per prevenire quanto possibile il ripetersi di fenomeni criminali come quelli che hanno avuto luogo nell'ultimo weekend ancora la cronaca in primo piano perché nelle prime ore della mattinata una donna di 84 anni è stata investita da un autocarro nel comune di tavullia lungo strada santa barbara pare che l'anziana residente a belvedere fogliense stesse camminando a bordo strada quando è stata appunto raggiunta e travolta dal mezzo l'impatto e le condizioni della donna hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato l'84enne all'ospedale torrette di ancona sul posto è intervenuto la polizia locale impegnata a ricostruire le dinamiche esatte dell'accaduto e ora cambiamo argomento perché nelle marche quindi anche a pesaro sono partiti questo fine settimana i saldi estivi 2021 questa mattina siamo andati a sentire i titolari dei negozi situati in centro per fare un primo bilancio di questo weekend anche nelle marche sabato 3 luglio sono arrivati gli sconti estivi questa mattina siamo venuti in centro per sapere dai titolari di alcune attività e di alcuni negozi com'è andato questo primo weekend di sconti abbiamo abbiamo avuto un buon incremento sia a pesaro che ancona perché abbiamo due store sia ancona che a pesaro e i saldi stanno andando molto molto bene e la gente richiede molto gli abiti per le cerimonie perché sono iniziate anche le cerimonie noi stiamo facendo un 50 per cento su quasi tutto la merce e qualcosa anche 30 e 20 noi stiamo andando bene anche perché pesaro e stiamo lavorando benissimo con il turista che è tornato a pesaro e soprattutto abbiamo anche il giovedì sera che siamo aperti anche per fare il cerale è andato molto bene sabato molto molto bene poi domenica uguale è un po meno il pomeriggio poi anche il tempo non è stato dei migliori però andata molto molto bene che tipo di scontistica avete applicato noi abbiamo ancora il 10 20 per cento di più non riusciamo attualmente a farlo anche perché la stagione è appena iniziata quindi con i costumi così facciamo molta fatica a fare più del 20 per cento in questo momento è andata benino a mia mi aspettavo di più un pochino più entusiasmo un po più di movimento però è andata così e speriamo che migliore la gente un pochino se motiva a prendere le cose in saldi e noi siamo partiti con il 20 30 e ci abbiamo anche dell'articolo del 50 per cento è stato richiesto molto le borsa da mare e costumi e per il prossimo giorno penso anche un po qualcosa sul 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 avvilamento così le aspettative erano molto più alte e sinceramente lavorato più i giorni prima le settimane prima anche se non c'erano gli sconti piuttosto che il weekend anche se poi dopo la domenica comunque siamo stati chiusi ma sabato pensavo di lavorare meglio vediamo un attimo anche perché comunque durante il weekend la gente va al mare ne approfitta comunque per stare al mare quindi forse durante la settimana si lavora meglio non lo so bisogna che vediamo e aspettiamo qui che scontistica è stata applicata al momento il 20 per cento poi dopo andando avanti vediamo le difficoltà inutile nascondercelo ci sono sempre comunque la pandemia anche se adesso è un po passata in secondo piano ma sotto traccia c'è sempre una certa paura c'è però le aspettative in ogni caso sono abbastanza sono alte i saldi estivi hanno la coda lunga a differenza di quelli invernali che si svolgono dove c'è il grande boom nelle prime due settimane i saldi estivi arrivano anche fin verso la fine di agosto quindi è un incremento lavorativo che c'è sempre giornalmente tutti i giorni che arrivano fino a fine agosto con il giro dei dei turisti evitiamo un attimo se possiamo per una volta di andare a comprare senza fare i nomi cognomi ma già sappiamo già di chi stiamo parlando contro le multinazionali delle dell'online che sono quelle che stanno distruggendo il tessuto socio economico nostro italiano le piccole piccole micro imprese stanno soffrendo in maniera mostruosa perché questi colossi a parte che non pagano l'iva come la paga un commerciante e non pagandoli in quel modo lì hanno sono già con più competitivi sul mercato facciamo rimanere i soldi fra fra di noi fra noi con dando l'opportunità ai nostri operatori ai nostri commercianti di rimanere a galla la pioggia non ha affermato la special edition della mezzanotte bianca dei bambini che si conferma il più grande evento estivo dedicato a bambini e famiglie la manifestazione promossa dal comune di pesaro che per l'edizione del 2021 si è concentrata nella sola serata di domenica ha visto protagonisti in piazza del popolo i bambini sorridenti incantati dai loro amatissimi personaggi tv e nella giornata di sabato il gruppo locale di greenpeace pesaro in collaborazione con l'ipu lupus in fabula e wwf ha svolto presso baia flaminia e lungofoglia la pulizia della spiaggia e del greto del fiume dai rifiuti volontari e volontari hanno inoltre catalogato le diverse tipologie di materiali raccolti con un occhio particolare per le bottiglie di plastica uno degli oggetti in cui è più facile imbattersi tra quelli dispersi nell'ambiente musica e creatività per il primo appuntamento del mese di luglio con il mercoledì degli artisti iniziativa promossa dall'assessorata del turismo del comune di fano nell'ambito di fano in plein air e in collaborazione con l'orchestra sinfonica rossini torna il 7 luglio a ravvivare l'atmosfera della città della fortuna con tanti eventi diffusi nei locali aderenti si parte infatti alle 19 in piazza 20 settembre all'ideale food more per proseguire fino alle 22 30 con gli altri eventi diffusi nei locali aderenti dislocato in tutto il perimetro del centro storico e il consiglio comunale di fermignano ha approvato la mozione per la riduzione dell'imposta sui prodotti igienici femminili essenziali quindi assorbenti coppette mestruali e tamponi questa campagna sarà attiva nella settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 luglio e gli esercenti che vi aderiscono sono gala superstore alimentari anna alessandroni farmacia fusconi parafarmacia dottoressa cinzia carizzi e antica farmacia rossi e parte domani martedì 6 luglio la sesta edizione di music notes festival rassegna che proporrà cinque suggestivi concerti di musica classica fra il conventino dei serviti di monte ciccardo e il parco miralfiore di pesaro è molto interessante secondo me il fatto che appunto si affianchi alle grandi proposte musicali della città con una sua identità molto precisa che un'identità di scoperta e soprattutto di invito a pesaro di musicisti di grande valore che solitamente appunto non frequentavano la nostra città quindi un progetto sempre molto chiaro e molto coerente quest'anno ha in più la possibilità di mostrarci anche un altro luogo importante che la città recuperato ha voluto recuperare per il suo progetto culturale che il conventino dei serviti di maria di monte ciccardo e quindi appunto due spazi il conventino e il parco che insieme possono tornare a farsi palcoscenico per una proposta musicale di grande qualità primitri concetti che si terranno al conventino dei serviti di maria di monte ciccardo hanno un'impronta decisamente cameristica nella prima serata l'evento inaugurale il protagonista sarà niccolò paganini famoso come virtuoso del violino della chitarra ma in realtà anche grande compositore di musica da camera probabilmente il più grande compositore di musica da camera del primo docento italiano io alla chitarra insieme a pier carlo sacco il violino della viola ea camilla patria violoncello eseguiremo due suoi terzetti mentre invece il 13 luglio il martedì successivo andrea turini docente di pianoforte principale al conservatorio rossini terrà un recital solistico perfettamente bipartito fra due dei massimi geni della storia della musica bach e debussy l'ultimo concerto al conventino di monte ciccardo mi vedrà accompagnare a juan francisco gatel noto tenore argentino più volte ospite del rossino opera festival che accompagnerò appunto in un recital che andrà dalle musiche di mozart a quelle di piazzolla per cui tra europa e sud america i due eventi invece nell'arena del parco miralfiore avranno un taglio differente mercoledì 28 luglio ci sarà un concerto lirico con sarah rossini soprano e riccardo dell'asciucca tenore mentre invece la serata conclusiva di moon sarà un melologo con musiche di astor piazzolla eseguite da andrea dieci e pier carlo sacco per cui in duo chitarra e violino viola e che saranno intervallate a poesie di cesare pavese per un spettacolo dal titolo e ti senti pulsare nel sangue le poesie che verranno lette da federica fracassi un'attrice che ha già lavorato con amate tra le più importanti attrici italiane di questo momento e parliamo ancora di eventi estivi e rassegna i nastri di partenza perché da mercoledì 7 luglio arriva l'ottava edizione di vaghe stelle dell'orsa rassegna poetica che per gli appuntamenti del 2021 torna in presenza l'intervista è alla curatrice e alla direttrice artistica dell'evento laura corraducci siamo giunti all'ottava edizione quest'anno vaghe stelle dell'orsa 2021 la rassegna di poesia e anche di musica che curo io per l'assessorato alla bellezza e per la biblioteca bobbato di pesaro quest'anno finalmente torniamo in presenza con le nostre tre serate partiamo mercoledì 7 luglio alle 21 sempre nel cortile dei musei civici cortile di palazzo mosca e con tre poeti e un duo di musicisti finiremo mercoledì 21 luglio il secondo appuntamento invece sarà per un'eccezione giovedì 15 luglio sempre alle 21 sempre nel cortile dei musei civici seconda edizione durante la pandemia l'ho detto lei la novità di quest'anno è il ritorno in presenza che aspettative ci sono per quest'anno e per questa nuova edizione guarda le aspettative sono penso le aspettative di tanti che stanno curando eventi culturali non solo live c'è questa voglia di ritornare in presenza e abbiamo la possibilità quindi di avere non solo i poeti presenti l'anno scorso erano online ma di avere il pubblico tutte tra le serate ci sono 40 sedute perché questo consente per il luogo la legge però speriamo di riempirle le aspettative sono di ricreare finalmente come dice la parola inglese live un evento che che sia vivo vivace dove la poesia possa essere ancora più d'impatto e così anche la musica ospiti e qualche anticipazione per le date di quest'anno allora il mercoledì 7 luglio quest'anno scelto di fare così ci sono sempre tre poeti ma i primi due presenteranno la loro poesia mentre il terzo di ogni serata omaggerà un poeta una poetessa famosa di cui è bello fare risenti diversi la prima serata ci saranno alberto bertone francesca serragno lì e anna toscano che leggerà a gogliarda sapienza la seconda che sarà giovedì scusate 15 luglio ci saranno matteo fantuzzi paolo loreto e isabella leardini che leggerà antonia pozzi quindi la poetessa famosa antonio pozzi l'ultima serata mercoledì 21 luglio valerio grutt e mary barbara tolusso massimiliano bardotti che insieme a me leggerà un gigante leggeremo un gigante della poesia che emily dickinson in chiusura quindi come è possibile partecipare allora le chiaramente la partecipazione gratuita e io credo che magari fare un colpo di telefono ai musei civici è una cosa buona quindi evitare magari se c'è eccessivo assembramento ma speriamo insomma che queste 40 sedie riusciamo a riempirle voglio dire una cosa che l'evento abbiamo iniziato così l'anno scorso in piena pandemia è possibile vederlo anche in diretta facebook sul canale di pesaro musei mi lasci dire un'ultima cosa sui musicisti abbiamo diversi musicisti per ogni serata la prima serata abbiamo un duo di chitarra e sassofono la seconda giovedì 15 luglio abbiamo un duo di violino e flauto la terza abbiamo la grande fisarmonica di raffaele damen ed è stata inaugurata lo scorso venerdì in via san francesco a pesaro la nuova filiale di riviera banca la quarta presente in città vi racconteremo nel dettaglio questo momento domani in prima serata alle 21 e 15 con uno speciale nel frattempo però vediamo un'anticipazione con l'intervista al presidente di riviera banca fausto caldari una nuova filiale perché andiamo avanti riviera banca va avanti comprende le esigenze sempre crescenti dei clienti e quindi la necessità di avere nuovi servizi di dare nuovi prodotti di avere un contatto diverso con con la gente con i soci con i clienti e poi perché è una un inizio una ripresa stiamo uscendo dalla crisi e questa deve essere proprio una dimostrazione di che ricominciamo insomma ricominciamo avvantaggio del territorio avvantaggio della gente avvantaggio di tutti coloro che hanno la buona volontà di di essere utili anche nella struttura e come è stata arredata e progettata questa filiale ha molte connotazioni relative a pesaro sì e noi diciamo abbiamo dei significati che indicano la pesaresità cioè abbiamo ad esempio sulla parete principale c'è una gigantografia che riporta un'immagine di pesaro e abbiamo all'ingresso ci sono delle ceramiche che ha che hanno fatto e hanno progettato gli studenti del mengaroni e riguardano alcuni partiti di di rossini e abbiamo giù appena si va giù per le cali e abbiamo un altro segno secondo noi molto importante abbiamo una bicicletta e stilizzata e un'architettura praticamente del di una di un artista molto importante e quindi è un po tutto non pensato a caso ma tutto calcolato valorizzato cercando appunto di valorizzare pesaro la pesaresità i sentimenti dei pesaresi e questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata di rossini tv questa sera torna un nuovo appuntamento con l'arte della bellezza e protagonista del cambio look di questa puntata sarà alessandra in prima serata quindi alle 21 e 15 una nuova puntata dell'arte della bellezza le repliche sono inoltre indicate nel cartello per le prossime giornate vi ricordiamo inoltre che è disponibile su tutti gli store digitali apple e android la nuova applicazione di rossini tv attraverso la quale potrete vedere in diretta 24 ore su 24 la nostra emittente oppure rivedere i programmi e i contenuti appunto all'interno dell'applicazione e quindi questo era l'ultimo avviso vi ricordo che l'informazione su rossini tv torna puntuale domani mattina alle 7 20 con la nostra rassegna stampa buongiorno rossini grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale vi auguriamo un buon proseguimento di serata su rossini tv